Vene a Nazareth dove era cresciuto e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto. Luca adesso si concentra su un momento importante, Gesù che a Nazareth dove lui è stato allevato e cresciuto, immaginate quale attesa poteva esserci nei confronti della sua persona quando già la sua fama si era diffusa in tutta la Galilea, Gesù che va niente meno che nel suo paese di origine e nella sinagoga, nel luogo del culto dove la comunità si raduna ogni sabato per ascoltare la legge, la parola di Dio e per benedire, pregare e sentirsi veramente identificati con quella tradizione del popolo di Israele e con quell'essere appartenenti al popolo dell'alleanza. Luca non racconta niente della sinagoga riguardo il culto, riguardo tutto quello che concerneva questa pratica del sabato. Dice soltanto che entrò nella sinagoga e Luca mette sempre un po' le mani in avanti per dire che Gesù ci andrà in questo luogo del culto solamente per insegnare, come l'ha già spiegato prima, insegnava nelle loro sinagoghe, non dice nelle sinagoghe sue, anche Gesù proveniva da quell'ambiente, però Luca ci fa vedere già la distanza che Gesù prende da quell'ambiente ufficiale del culto dove bisogna proporre la buona notizia, questa novità e dove purtroppo non avrà nessuna accoglienza. Tutte le volte che Gesù entra nella sinagoga, nel Vangelo di Luca, saranno sempre conflitti. Ecco, nella sinagoga Gesù gli è stato dato il rotolo e il profetese e lui ha trovato, ma non ha trovato casualmente, lo ha trovato perché lo ha cercato, il verbo che ad opera l'evangelista Luca, ci ricorda con l'espressione di Archimede quando ha trovato finalmente quello che era il frutto della sua ricerca, eurica, lo stesso verbo ad opera Luca, quindi ha trovato dopo una ricerca attenta un testo che era molto conosciuto, il testo di Isaia 61, 1 e 2, dove si parlava finalmente della presenza del Messia liberatore e dell'effetto potente della sua presenza per restaurare la gloria perduta del popolo di Israele. Il testo di Isaia, lo spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, a rimettere libertà agli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Ecco, Luca parla del testo di Isaia, possiamo andare a cercare questo testo, però lo troveremo esattamente nella nostra Bibbia così come Luca ce lo riporta. Il testo è stato un po' cambiato, Luca ha tolto qualche versetto e ne ha inserito un altro dal capitolo 58. Questo intervento così libero, così anche audace, da parte dell'evangelista dimostra che lui era un grande conoscitore delle scritture, non era appunto, come si usa dire, il medico pagano che era entrano, no, era sicuramente un ebreo appartenente al mondo ellenistico, però con una formazione anche nel mondo rabbinico, nel mondo delle scritture, perché nessuno poteva fare un intervento del genere se non era grande esperto della scrittura. E Luca allora ha presentato un testo molto conosciuto, molto popolare, dove si presentava, dove già si parlava della figura del Messia, il consacrato, lo spirito mi ha consacrato, il verbo in ebreo, in ebraico è Masiah, dove era per Messia, e era l'attesa di questo liberatore, perché quando Isaia scrive questo testo sta parlando a quelli che sono nell'esilio in Babilonia, che vivono l'oppressione e l'umiliazione di essere veramente sotto il potere nemico. Ecco, si aspettava questo Messia, questo consacrato, questa profezia di Isaia, che si potesse avverare perché la situazione più o meno era la stessa, anche se stavano in terra di Israele, ma sotto il dominio romano, una presenza umiliante che devastava e che veramente succhiava il sangue a questa gente, e quindi attendevano con ansia la venuta del liberatore, questo Messia potente, che avrebbe dovuto cacciare, eliminare, sconfiggere i nemici del popolo, o restaurare un po' la legge, l'istituzione, la gloria perduta del popolo di Israele. Luca, cambiando il testo di Isaia, ha dato l'attenzione su situazioni di oppressione, in cui ovviamente anche il popolo viveva, parla di prigionieri, di ciechi e di oppressi, così come parla anche dei poveri. Ovviamente non vanno presi alle lettere queste parole, perché il profeta Isa sta parlando di... Isaia parlava di persone che erano in situazione di grande oppressione, che erano anche gettate in quei carceli, in quelle situazioni di buio totale, e quindi dove non si poteva assolutamente vedere la luce e si viveva con più umiliazione, appunto la sottomissione, l'essere veramente oppressi. Il Messia veniva per togliere da questa situazione di oppressione, e allora uscire dalle carceri significava uscire da situazioni di tenebra, significava poter di nuovo rivedere la luce, essere persone libere, non sottomesse, o dominate da una potenza nemica. E poi ai poveri certamente la buona notizia, la buona notizia come può essere che la povertà deve finire, come aveva già promesso il Signore al suo popolo, e come Luca dirà poi nella seconda parte della sua opera, nel Libro degli Atti, quando parla delle comodità, delle orine, tra di loro non c'era alcun bisognoso, perché sapevano condividere, mettere insieme i loro beni. Quindi la fine della povertà dipende anche dall'attuazione del messaggio di Gesù che invita la condivisione generosa e solidale, che invita ad essere veramente persone aperte all'accoglienza. Questa è la buona notizia, il termine che adopera Luca per evangelizzare, portare una buona notizia, quindi Luca già è uno che conosce come le comunità stanno portando avanti l'annuncio, stanno evangelizzando la buona notizia del Regno. Proclamare l'anno di grazia del Signore, questo era il famoso anno giubilare, del giubileo, che troviamo anche nell'Antico Testamento, nel Libro del Levitico, era un anno importantissimo perché tutto si azzerava e tutto ripartiva da zero, era una cosa molto interessante, si condonavano i debiti, si usciva dal carcere, si recuperava la libertà per chi l'avesse perduta, era una maniera anche di ridare al popolo la possibilità di iniziare la vita senza pesi alle spalle. Ecco, adesso la grazia del Signore appunto è togliere tutto quello, proclamare quell'anno di grazia, quell'anno importante, dove vengono condonati tutti i pesi o tutte le situazioni di debito, di oppressione, di miseria, di mancanza di libertà, in cui l'essere umano si possa trovare. Riavolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con i vostri orecchi. Interessante che il Messia viene per aprire gli occhi, dare la vista ai ciechi. Luca dice, il scrittore, la sua capacità di narrare è eccezionale, che gli occhi di tutti erano fissi, ma saranno occhi che non riconosceranno a Gesù, lo cacceranno fuori dalla sinagoga infuriati, perché delusi di aver visto in Gesù proprio uno che non risponde alle loro attese. Quindi Isaiah parlava di aprire gli occhi ai ciechi, gli occhi di tutti sono fissi su di lui, ma incapaci di riconoscerlo come Messia. Ma a Gesù non gli interessa tanto gli occhi quanto gli orecchi. Appunto, la sua risposta, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato con le vostre orecchie. Luca mette l'attenzione sul fatto dell'ascolto, perché è così che si diffonde la buona notizia e non porre alcuna resistenza alla novità che essa porta. È tutto un modo di presentare il Vangelo come un annuncio che si va realizzando pian piano che questa buona notizia trova accoglienza nelle persone, pian piano che gli occhi si aprono e che le orecchie si liberano da ogni resistenza. Il profeta Ezechiele aveva già denunciato il popolo di Israele per questa sua caparvietà e questa sua chiusura, dicendo che è un popolo che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Quindi già Luca conosce anche questa denuncia che ha fatto Ezechiele e in maniera molto fine la presenta anche all'interno del luogo del culto, il luogo più eccellente che ci poteva essere, per dire come la novità di Gesù, questa liberazione che lui propone, dove non si parla più di vendetta, Gesù ha censurato il testo di Isaia, Isaia parlava anche della vendetta, il giorno della vendetta del nostro Dio, per Gesù non esistono più giorni di vendetta, ma esiste soltanto l'anno di grazia. E' questo che scandalizza che si parli di un Dio che è soltanto misericordioso e che non si vendica o non castiga nessuno.